cari amici dobbiamo dircelo chiaramente è arrivato il momento di chiudere tutto da domani finalmente avrete tempo di pensare un nuovo lavoro ma nonostante ciò so bene che a voi anche in un momento così difficile troverete la voglia e la forza di non prendervi troppo sul serio ora basta fare chiacchiere godetevi lo spettacolo signore e signori finalmente ci siamo no 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 Sì 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 Rhow Rhow Au Oh 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 Corrid Chiribaba Ed allora visto che voi non mollate, quasi quasi mi rimetto e mi cerco un altro lavoro.